Oh, la sinistra è garantista, eh? Difende sempre gli indagati. Quando sono i suoi? Oggi vi parlerò dello scandalo avvenuto nella Milano di Beppe Sala. 150 milioni di euro di appalti fatti da ATM, l'azienda di trasporto pubblico locale, che riguardano la metropolitana milanese. Parrebbe che 13 marioli, tra cui due dipendenti dell'azienda pubblica di Milano, abbiano taroccato i bandi di gara per favorire questa o quell'azienda. E in effetti le intercettazioni sono assolutamente eloquenti. Ma questo strano garantismo del PD, sempre richiesto quando loro sono i protagonisti di vicende giudiziarie, è evidentemente dimenticato dal signor Giuseppe Sala, condannato per falso ideologico e materiale in primo grado per una grandissima partita economica che riguardava Expo. Lo stesso Sala dice che le due persone indagate devono essere punite con pene esemplari, giusto, e che devono andare in pensione senza avere neppure i soldi per il ristorante. Giusto! D'altronde che cosa vi aspettereste da un sindaco che viene tradito letteralmente da due funzionari di quarto livello che hanno il potere di redigere addirittura dei bandi per decine di milioni di euro. Ma chi la raccontate, ragazzi? È evidente che questi bandi da qualcun altro sono stati visti. E o non si è accorto di quello che avveniva, oppure ha firmato sulla fiducia. Fiducia che, come sentite, sto mettendo anche io su tutte le persone coinvolte. Ma voi ci credete che i bandi di gara così importanti non siano mai stati vistati da nessuno? Se così fosse, sarebbe molto molto grave, ragazzi. Ma sempre per parlare del garantismo e intermittenza del signor Giuseppe Sala, forse non si è accorto di aver lui stesso nominato poche settimane fa come amministratore delegato di A2A, la multiutility di proprietà del comune di Milano e del comune di Brescia, con un fattorato da 6 miliardi e 4, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, il Renziano, Renato Mazzoncini, sul quale noi garantisti non abbiamo nessun dubbio. Peccato, Beppe, tu che ce l'hai così tanto con le persone semplicemente indagate, che anche tu abbia messo a capo di A2A un signore riviato a giudizio per truffa dal Tribunale di Perugia e rinviato a giudizio per turbativa d'asta dal Tribunale di Parma. Detto questo, la Lega è sempre garantista e di fronte alla condanna per falso ideologico e materiale di Giuseppe Sala siamo intervenuti dicendo di essere certi che lui avrà un giusto processo, che non accederà alla prescrizione e che sicuramente al terzo grado di giudizio ne uscirà completamente innocente. Per esempio, proprio questa settimana è stata arrestata l'ex sindaco PD Siria Trezzi che peraltro era delegata in città metropolitana. E indovinate chi è il sindaco della città metropolitana? Ora, è evidente che il garantismo a intermittenza del Partito Democratico è semplicemente scandaloso e che oggi ci sia la necessità di verificare se nella metropolitana milanese, a causa dei lavori fatti proprio con le presunti tangenti, non ci siano dei pericoli per i nostri concittadini. Dunque, è evidente che ATM debba essere commissariata e mi auguro che il giusto garantismo del Partito Democratico intervenga subito con una commissione d'inchiesta comunale perché noi vogliamo chiarezza rispetto ai soldi dei milanesi che vengono spesi in ATM e forse vengono sprecati in tangenti mentre il Comune di Milano aumenta il biglietto a 2 euro. Ciao!